Un gioiello nascosto tra le vie della città vecchia. Il Museo Diocesano è tornato a splendere. Dopo l'inaugurazione del nuovo allestimento e percorso multimediale, lo spazio di Via Dottula è ormai uno dei punti di riferimento del turismo religioso del capoluogo pugliese. Il percorso si articola in cinque sezioni, lapidario, pinacoteca, tesoro, paramenti sacri e i caratteristici rotoli dell'exultet. Appassionati ed esperti possono soffruire anche di un centro di documentazione costituito da biblioteca specializzata e documentazione d'archivio. La nuovissima sala che ospita i rotoli dell'exultet è arricchita da un'installazione video che restituisce l'atmosfera e il contesto dell'epoca. È possibile attraverso i manufatti più diversi, da quelli lapidi, la sala degli argenti, i parati, la pinacoteca, essere capaci non soltanto di guardare le bellezze storico-artistiche, ma di poter innanzitutto riscoprire uno spirito di fede che diventa cultura. Il Museo Diocesano apre le sue porte a turisti, baresi, ma soprattutto ai giovani. A partire da settembre partiranno infatti dei laboratori che coinvolgeranno le scolaresche per far conoscere il patrimonio religioso del museo. Abbiamo creato anche come scelta ecclesiale quella di poter un'aula didattica per far sì che dai più piccoli ai più grandi possa essere realmente il museo uno spazio, uno spazio di incontro, uno spazio laboratoriale, uno spazio in cui la cultura è per tutti. Questa è la sfida.